Allora, in merito alla discussione fra le dietribi che hanno iniziato stasera sull'inizio del Consiglio Comunale, fra l'assessore Bruchino e le affermazioni fatte dal signor sindaco Franca Iurato, noi un pochettino della minoranza pensiamo che, o io personalmente, un pochettino lei ha evitato di rispondere, questo è qualcosa che non funziona perché praticamente è prerogativa in Consiglio Comunale, che un sindaco risponde alle domande fatte dai consiglieri, io penso che sarebbe più opportuno non rispondere alla stampa che in Consiglio Comunale, questo fa evincere un pochettino il pensiero che lei forse sta su quello affermato, non è molto convinta e quindi un pochettino sta ritraendo le proprie conclusioni. Grazie.